Ciao ragazze, benvenute di nuovo su Mondo Cosmetiche e bentornate a me, finalmente ci sono riuscita Allora, poi magari facciamo un video chiacchiericcio dove vi spiego perché sono stata filmato questo tempo e finalmente riprendo in mano il canale, probabilmente con la stessa programmazione che avevo prima, quindi martedì e venerdì però, come vi dicevo, arriviamo subito al sodo del video, ho deciso di riprendere in mano il canale parlando ovviamente dell'azienda che rappresento e che ho deciso di rappresentare, la mia meravigliosa azienda, la Yves Rocher dedicando appunto il primo video a tutte le persone che desiderano iniziare a lavorare in Yves Rocher o semplicemente diventare delle clienti privilegiate e quindi soffrire di uno sconto particolare quindi questo video non sarà di presentazione, quindi un conosciamo insieme un prodotto della Yves Rocher ma un video dedicato a un'offerta vantaggiosissima, l'offerta benvenuto l'ho messa in questa velina perché così la riesco a ottenere dritta e ve la volevo far vedere allora, come voi sapete, chi mi ha seguito sa che io sono una capogruppo Yves Rocher chi non lo sa sono una capogruppo Yves Rocher per cui ovviamente ho piacere laddove ci sia qualcuno che desidera entrare a far parte del mio team presentarvi tutte le possibili opportunità siccome la nostra azienda ci fa tantissimi regali e voglio dire proprio ci riempie le giornate e proprio il tipo di lavoro, la nostra attività piena 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 di regali, incentivi, cose bellissime ovviamente non poteva mancare un'offerta riservata alle nuove amiche e appunto l'offerta benvenuto nel caso specifico questa è iniziata il 2 febbraio e termina il 5 aprile poi ci sarà una nuova offerta ed è un'offerta ultra vantaggiosa adesso vi spiego anche il perché i prodotti che sono qui riportati sono in realtà i prodotti che sono stati più amati del periodo per cui l'azienda cerca di proporre i nostri best a un prezzo ultra mega fantastico allora come vedete qui praticamente l'azienda ci dice per te tutta l'efficacia del nostro trattamento è ad un prezzo speciale solo per il tuo primo ordine quindi solo per chi desidera attirare il codice cliente e quindi soffrire di uno sconto il set benvenuto tutti i prodotti a soli 35 euro ovviamente chi di voi non conosce vabbè chi conosce l'aivro scesa che stiamo parlando di un'offerta assolutamente fantastica chi non li conosce ora faccio due conticini per farvi capire per chi è così vantaggiosa questa offerta prima di tutto cosa ci propone cosa è presente in questa offerta qui sono riportati tutti i prodotti allora un balsamo labbra al carité poi è riportato un olio sotto la doccia che è un trattamento appunto vegetale per la cura del corpo da utilizzare sotto la doccia shampoo trattamento nutriente eccolo qui poi abbiamo l'acqua miscellare lenitiva 2 in 1 della linea appunto sensitive eccola qui poi abbiamo un bagno doccia noce di cocco di 200 ml quindi il formato molto pratico ed è questo poi abbiamo una stilocchi waterproof colore nero questa qui abbiamo una crema ricca idratazione intensa della linea idra vegetale quindi della linea dedicata all'idratazione della nostra pelle e un trattamento rimpolpante giorno della linea serum che è il nostro best della linea anti age della linea appunto compattezza tutti questi prodottini appunto ce li propone a 35 euro allora qui sotto ci è riportato anziché 67 euro e 35 sarebbero ovviamente i prezzi da listino probabilmente molte diranno ok vale 67 euro però io se li compro mi compro da album quello che preferisco è vero ma vi ho fatto un conticino per vedere in questo momento in album 4 di cui poi vi carico il video in modo che lo vediamo insieme perché è fantastico pieno 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 zeppo di novità quanto è acquistando ogni single cioè questo bracchetto di prodotti acquistandolo ovviamente a prezzo presentato in album quindi già scontati il valore di quanto è è di 57 euro e 35 quindi 67 euro e 35 sono i prodotti da listino il valore dei prodotti se lo andiamo a acquistare in album promozionale quindi scontati è di 57 euro e 35 l'azienda ce li propone a 35 euro ma non finisce qui perché ai 35 euro attivando il codice cliente viene aggiunto un ulteriore 15% di sconto non solo l'azienda ha riservato a tutte le persone che decidono di attivare il codice cliente nel mese di marzo di fare un ulteriore regalo sapete bene che noi siamo un'azienda che nasce per la cosmetica appunto della cosmetica vegetale per la cura prevalentemente del viso per cui ci omaggia a tutte le persone che effettueranno il primo ordine del mese di marzo di questo bellissimo regalo cioè ci regala un kit di mini trattamenti della linea anti-age global che è una delle linee storiche per appunto i trattamenti anti-age ce li regala quindi sono un ulteriore regalo oltre all'offerta benvenuto ci tengo a sottolineare che questo regalo arriva comunque indipendentemente se si acquistò o meno l'offerta benvenuto semplicemente attivando il codice cliente nel mese di marzo quindi non solo chi non lo sapesse quando si effettua il primo ordine quindi oltre all'ulteriore sconto del 15% i prodotti arrivano comodamente a casa senza spese di spedizione e il pagamento non avviene alla consegna perché all'interno del pacco ci sarà un bollettino postale già scontato del 15% quindi insomma si avrà tutto il tempo di godere un po' dei nostri prodotti e poi con tutta calma pagare il bollettino quindi direi che è un'offerta assolutamente da non perdere non solo perché i nostri prodotti sono eccezionali poi come vedete sono riportati un po' tutti i nostri prodotti quindi la linea corpo linea capelli linea diciamo per le pelli sensibili un bagno doccia profumo di cocco che è uno di quelli più amati in assoluto un balsamo labbra carité che vi ricordo tutti i prodotti tipo carité meccatamia quindi i balsami labbra sono in sapore in odore a meno che ovviamente non prendete quelli fragranzati quindi tipo si può dire fragranzati vabbè tipo quelli là fragola ciliegia e allora la sono colorati ma vi ricordo che anche lì colore non è artificiale vabbè comunque poi ne parliamo e colore matita occhi waterproof quindi anche make up e appunto due prodotti della linea viso uno per pelli diciamo non anti-age quindi insomma studiato per chi ha bisogno di idratazione e l'altro invece della linea reporpante anti-age quindi la linea serum quindi cosa aspettiamo soffriamo veramente di questa fantastica offerta perché 35 euro scontato del 15% a casa gratuitamente senza spesa e spedizione con il bollettino postale e in più all'interno troviamo anche il kit di mini trattamenti della linea anti-age globale niente allora se avete piacere di entrare a far parte del mio team del mio favoloso team fantastico team sarò piacere sarò piacere sì sarò felicissima di ovviamente darvi tutte le spiegazioni e tutto quello che volete sapere mi potete contattare con un commentino sotto al video mi potete contattare tramite whatsapp al numero che trovate anche nell'info box mi potete contattare su facebook nella mia pagina dedicata appunto ai brochet trovate comunque tutti i dettagli giù nell'info box ragazze io sono felicissima di essere tornata con voi e spero che insomma faremo tanti video interessanti tante novità in generale in tutti sia in i brochet che ovviamente nelle recensioni di prodotti di altre blend vi mando un bacio grandissimo ciao grazie a tutti